la fiamma è accesa diciamo in teoria alla massima condizione puoi vedere dalla fiamma che c'è qua riesca a passarla girandola un pochino però questo non si ammogola si ecco questo diciamo è un minimo meccanico ripeto non capisco l'uso di questo guarda quale sicurezza procura però se io faccio questa simulazione qua guarda la fiamma guarda la fiamma io tengo più il gas in teoria la mandata e poi riapro come se fosse stata spenta da un soffio aria la signorina butta lo stesso il gas in questo momento qua e fa un effetto esplosivo si io do una scarica perché auto charge già non ho la mano non ho visto mai la fiammata no io ho gustato aspetta perché io sento sempre l'esplosione ma non la fiammata buona polizia del gas saltarsi qualcosa sui venti bello carino ho visto l'esplosione adesso avevamo ucciso tutti i ragni si però allora che succede do il tempo io chiudo il gas e la ritengo do la possibilità e il gas è chiuso eh logicamente al bulbetto di riuscire per raffreddarsi non so quanti secondi deve passare 6 o 2 o 3 secondi proviamo a riaprirlo allestiamo via non dovrebbe partire però mai ria mai infatti adesso la sua sicurezza funzionale per cui lei non risponde assolutamente ma devo ripetere la procedura accensione ok chiudo li spengo e lei è partita bene due secondi eccola perché siamo una serie di specie quindi così è regolare cioè il problema nasce che una volta bella surriscaldata perché ancora non sei surriscaldata non vedo il bulbo incandescente tu la spegni e la fiamma come brucia bene io chiudo il gas spengo tutto probabilmente finché è quello è così a questo punto qua se io riapro allora schicca anche questa lì mettiamo su spara e metto in posizione si è risparato si è scesa ma è risparato quindi devi qualche secondo in più per essere proprio freddo altrimenti non chiude sì 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 sì